Notizia dell'ultimo minuto, Big Rami entra ufficialmente nel line-up dell'Arnold Classic 2023 e quindi gareggerà a quest'Arnold. Infatti è appena stato annunciato la sua entrata nel line-up sul profilo Instagram dell'Arnold Sport e quindi Big Rami gareggerà ufficialmente a quest'Arnold Classic e proverà a dimostrare il suo vero potenziale e a dimostrare che non è ancora finito come Mistro Olimpia. Questa è stata una notizia veramente impressionante e incredibile perché tra tutti quelli che potevano entrare nel line-up dell'Arnold Big Rami era forse quello meno probabile. Un po' lo sapevo, onestamente ci avevo fatto qualche pensiero sul fatto che Rami sarebbe potuto entrare in questo line-up però era più una speranza che una certezza, era più un sogno però a quanto pare il mio sogno si è avverato e ora Big Rami potrà riscattarsi dopo la brutta figura fatta all'ultimo Olimpia ma per lui la scelta di fare l'Arnold Classic è una scelta giusta o sbagliata? Dipende da alcuni fattori, intanto Nick Walker nei commenti sotto la pagina dell'Arnold ha scritto That's what I'm talking about, cioè è di questo che sto parlando. Comunque per Rami potrà essere una scelta giusta o no fare l'Arnold Classic? Allora, se effettivamente Rami e Chad Nichols hanno solo sbagliato la peak week all'Olimpia potrebbe essere una buona scelta fare l'Arnold Classic perché hanno preso nuove cose sul suo fisico e potranno gestire meglio la peak week però se oltre la peak week ci sono stati altri problemi come quelli di cui ne ho parlato molto ovvero i problemi ai nervi, i suoi muscoli si sono molto atrofizzati lì non penso che sarà una buona scelta fare l'Arnold Classic perché abbiamo capito che i muscoli di Rami pian piano si stanno atrofizzando ovvero i tricipiti e la schiena negli ultimi tre anni però ci sono stati anche altri problemi a quest'Olimpia ovvero la condizione che non era buona bozzi sui glutei e un posing molto inferiore rispetto a quello degli ultimi tre anni quindi non c'entra solo la peak week per quest'Arnold Rami potrà sicuramente migliorare la condizione migliorare la pienezza generale del corpo e anche migliorare molto i posing Dennis James ha detto che è stato un errore della peak week che all'incirca il venerdì prima dell'Olimpia Rami risultava molto molto flat e non è riuscito a recuperare la pienezza in tempo per il pre-judging ed è quello che gli ha fatto perdere il titolo di Mr. Olympia in carica ovvero un'eccessiva flattezza nuovo termine appena inventato dei muscoli, i suoi muscoli erano troppo scarichi e non erano pieni però come detto prima ci sono stati altri problemi secondo me ovvero i nervi e la condizione in generale e la domanda che tutti ci stiamo facendo in questo momento è Rami può vincere l'Arnold Classic arrivando nella sua miglior forma di sempre? non lo so io per quest'anno, per questa volta su Rami non farò pronostici perché non ne ho la più pallida idea perché abbiamo capito che nel bodybuilding può succedere di tutto e nulla è mai deciso prima quindi non so veramente cosa succederà a quest'Arnold Classic perché Rami è sempre stato molto molto incostante con le sue forme quindi ad una gara magari portava una forma pessima però magari alla gara dopo portava una forma impeccabile quindi non è mai stato molto costante potrebbe essere che all'Arnold Classic porterà la forma migliore della sua vita chi lo sa come tutti davano Rami già per vinto ancora prima che l'Olimpia iniziasse poi però appena l'Olimpia è iniziato Rami ha toppato la grande quindi nulla è mai deciso e potrebbe essere che Rami porterà la forma migliore della sua vita può battere Nick Walker nella sua miglior forma di sempre? sì può battere Nick Walker perché ha una struttura migliore ed ha anche delle belle proporzioni può battere Derek Lansford nella sua miglior forma di sempre? non lo so bisognerà vederlo tra l'altro Derek Lansford deve ancora essere aggiunto a questa lista però sicuramente verrà aggiunto anche lui è questione di giorni e a questo punto il line up di quest'Arnold diventa veramente molto molto interessante al momento mi pare che ci siano 10 atleti 9 o 10 e quelli che si giocano alla top 5 sono in questo momento Big Rami, Nick Walker, Andrew Jack, Samson Dada, Sean Clarida e dimentico sicuramente qualcun altro ma non mi ricordo quindi il line up sta diventando molto molto interessante dal che non c'era quasi nessuno che erano inizialmente 6 stanno venendo fuori un sacco un sacco di nomi e potrebbe essere l'Arnold Classic più bello e con i line up più alto di sempre comunque fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate di questa entrata improvvisa di Big Rami all'Arnold Classic 2023 fatemelo sapere e anche i vostri pensieri su come potrebbe cavarsela appunto quest'Arnold fatemelo sapere come la storia che do like e un commento e ci vediamo in un nuovo video grazie a tutti